Vengo io. Marco Di Clemente, ex dipendente SGL e ex dipendente elettrocarbonimo ormai. La cosa più, è una cosa proprio assurda fuori di temi, che generalmente quando si fa una battaglia così sindacale è per mantenere il posto di lavoro. Noi stiamo facendo una battaglia per farci licenziare, per farci mandare immobiliare se poi il datore da loro applica tutte le questioni di legge, perché è improponibile in questa situazione senza stipendio, senza niente, stiamo lottando per farci licenziare. Avete capito a che punto siamo arrivati?